Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei il nostro aiuto e la nostra consolazione e ti preghiamo fa che in quest'ora i nostri cuori possano disporsi per ascoltare il consiglio della tua santa parola. Parlaci per lo Spirito tuo perché possiamo comprendere la nostra posizione dinanzi a te, perché possiamo essere illuminati, consolati, consigliati, edificati. Guidaci per lo Spirito tuo nel nome di Gesù, Benedettino Eterno. Vogliamo leggere nel capitolo 15 del Vangelo di Luca, Vangelo di Luca, capitolo 15, dal verso 8. Luca 15, 8. Qual è quella donna che avendo dieci dramme se ne perde una non accenda un lume e non spazi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? E quando l'ha trovata, chiama assieme le amiche e le vicine dicendo, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico che v'è allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Il capitolo 15 del Vangelo di Luca è un capitolo molto bello nel quale Gesù presenta tre parabole. Quello della pecora perduta, quello della dramma perduta, quello del figliuolo o dei figliuoli perduti. Ora, generalmente si pensa che queste parabole si riferiscono soltanto a diversi aspetti dell'amore di Dio, soltanto verso quelli che sono fuori, quelli che sono lontani. Ma Gesù parla invece a delle persone che non erano lontane e fuori dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista religioso, ma erano lontane e fuori dal punto di vista spirituale. E infatti la pecora di cui Gesù parla e che il pastore va alla ricerca è una pecora che si è perduta fuori dall'ovile. E questo indubbiamente parla di quelli che sono lontani. La dramma invece è perduta nella casa. E di nuovo si ripeterà nell'ultima parabola, questa famosa parabola del figlio al prodigo, che chissà perché poi debba essere chiamata così, è una parabola che invece riunisce i due pensieri delle prime due parabole, in quanto Gesù parla di due figli, uno che ha ottenuto i beni se ne va in un paese lontano e sperpera tutto e quando si trova in difficoltà torna in sé e torna al padre ed è accolto, l'altro che è rimasto in casa ma che ugualmente è lontano, che ugualmente è infedele, che ugualmente fa soffrire il cuore del padre, perché l'uno si è perduto fuori nel paese lontano, l'altro si è perduto rimanendo in casa. Tant'è vero che quando viene a sapere che il figliuolo che aveva sperperato tutto torna a casa e sente il suono della musica, della festa, si risente e non vuole entrare perché dice che non è giusto perché lui è rimasto lì, perché lui non ha avuto mai un agnetto. E' sviato. Il perduto è quello che va lontano, che si dimentica di tutto, come la pecora che non riesce a ritrovare la strada, o come il figliuolo che spende tutto in un paese lontano. Lo sviato, invece, è quello che si perde pur rimanendo nell'ambito della casa del padre, ma che per qualche ragione o d'altra non si trova in un rapporto ideale col suo Dio. Ora noi guardiamo intorno a noi e vediamo questo deterioramento continuo delle condizioni del mondo e diciamo continuamente il mondo è violento, il mondo è immorale, il mondo ormai ha perduto ogni remora per quello che riguarda la correttezza, la giustizia, l'onestà, la fedeltà e cerchiamo varie spiegazioni. Ma se dovessimo andare al fondo scopriremo che il mondo va in quel modo unicamente perché la gente ha dimenticato Dio e la parola di Dio. La gente si è perduta, la gente si è allontanata dal Signore. E poi, se molte altre cose non vanno bene proprio in vicinanza con noi, forse piuttosto che criticare il mondo che ci circonda, dovremmo cercare il perché in noi stessi. Ora, questa parabola delle dieci dramme o della dramma perduta, meglio, è molto breve, due versi. questa donna che a un certo punto scopre qualcosa di tremendo. Scopre che questa collana che gli era stata data come pegno di nozze composta di dieci pezzi d'argento si è rotta e va a ricercare i pezzi e scopre che di questa collana ne manca uno. Che è successo? Come mai? È mai possibile che una cosa così preziosa come un pegno delle nozze si è perduta? Perché? Come mai? Che è successo? avrebbe dovuto tenerlo in uno scrigno avrebbe dovuto curare attentamente perché era qualcosa di prezioso era il pegno più prezioso della sua vita e invece scopre che una di queste dramme d'argento si è perduta. La negligenza gli ha fatto perdere tutto e se poi leggiamo la parabola più attentamente scopriamo che questa donna abita in una casa che non è una casa molto abitabile una casa che ha bisogno di essere spazzata e spazzata attentamente non è come la casa dove abitano le nostre care sorelle qui che è una casa sempre pulita linda lucida con i pavimenti bellissimi è una casa che deve essere spazzata e spazzata per andare a ricercare questa moneta d'argento che si è perduta immaginatevi le condizioni di questa casa c'è la negligenza c'è il disordine e indubbiamente tra la negligenza e il disordine si perde tutto e spazzare la casa per andare a trovare una moneta vuol dire che c'era tanta di quella polvere che si era accumulata che addirittura sotto il letto sotto i mobili e dappertutto c'era tanta polvere alta che la moneta poteva essere nascosta sotto un manto enorme di polvere è triste no? e se l'idea di questa casa disordinata in cui abita questa donna disordinata e negligente si dà fastidio credo che nessuno di noi vorrebbe abitare in una casa così pensiamo per un istante alla nostra condizione spirituale con quanta facilità siamo negligenti e disordinati nei nostri rapporti con Dio al punto che perdiamo qualcosa non tanto ma qualcosa di quel pegno dei doni di Dio a nostro favore che sarà questa dramma perduta ognuno cerchi di individuarlo per sé sarà la mancanza del nostro rapporto con Dio nella preghiera sarà la mancanza della meditazione della parola di Dio sarà la mancanza del senso di giustizia e del senso di rettitudine nei confronti degli altri è una domanda alla quale ognuno di noi deve rispondere perché ognuno di noi deve facendo l'esame scoprire come mai questa dramma non c'è più come si fa e questa donna che cosa fa per poter trovare questa moneta d'argento perduta prima di tutto accende è una lampada quella casa non solo era disordinata polverosa ma una casa scura è triste no? qualche volta ci lamentiamo con i nostri figli perché lasciano le luci accese però una casa illuminata da un senso di gioia da un senso di pace un senso di serenità l'oscurità affligge l'oscurità appesantisce bene questa casa era scura certo che nell'oscurità non si vedeva la polvere certo che nell'oscurità non si non si trovava altro che disordine tanto era tutto nascosto ma voi ed io non siamo figlioli delle tenebre siamo figlioli di luce egli ha fatto risplendere su noi la sua luce gloria al suo nome e ci fa essere figlioli di luce quindi che fa la prima cosa che fa riaccende la lampada che si era spinta ricordate quelle famose lampade che stavano spegnendosi della parabola delle jesuvergine è importante riaccendere il lume perché tu e io siamo bene fino a che ci troviamo nell'oscurità fino a che non abbiamo la possibilità di scoprire la realtà della nostra vita ma quando a un certo punto lo spirito di Dio ci aiuta e accendiamo il lume e accendiamo il lume allora scopriamo esattamente quella che è la nostra condizione scopriamo esattamente che siamo dei disordinati scopriamo esattamente che abbiamo perduto qualcosa scopriamo esattamente che siamo dei negligenti certo che se ciascuno di noi va a confrontarsi con la gente del mondo ma noi siamo bravi buoni religiosi santi con quei del mondo e non con tutti ma se poi invece ci confrontiamo con la parola allora scopriamo che abbiamo perduto qualcosa del pigno che Dio ci ha dato della nostra eredità prende questa lampada e poi lume gli dà l'esatta le dà l'esatta condizione del suo stato e immediatamente comincia a spazzare la casa e la spazza bene eh sì perché deve ritrovare quello che ha perduto io ricorderò sempre quando stavamo alla scuola biblica c'era sempre qualche studente veramente in gamba in Inghilterra ci sono tanti tappeti e guide che erano la pena nostra che bisognava pulire tutti i giorni ma c'era qualcuno che faceva in fretta a fare i suoi servizi perché tutta la polvere l'andava a nascondere sotto i tappeti chissà quante volte noi spaziamo in questo modo la nostra casa in fretta e in furia cerchiamo di sistemare la nostra vita spirituale perché agli occhi degli altri appaia ordinata ma in realtà la polvere rimane lì no questa donna che ha illuminato finalmente spazza la casa e dice il testo che continua a spazzarla e cerca con cura cerca con attenzione di ritrovare quello che ha perduto signore grazie per questo una ricerca attenta tutti gli angolini sotto i nobili dove può essersi nascosto e questa ricerca non è certamente qualcosa di piacevole perché dopo aver spazzato la casa si trova con un mucchio di polvere di immondizia che non si aspettava il vero risveglio la vera spiritualità non si dimostra con tanta facilità si dimostra scoprendo esattamente la nostra condizione cristiana ma ma Dio sia lodato che quella moneta quel pezzo d'argento è ritrovato è qui la grazia di Dio che interviene o se fossimo noi al posto di Dio diremmo l'hai perduto basta ma lui invece viene e ci permette di ritrovarlo vogliamo ritrovarlo tutti è vero? ognuno di noi deve sapere che cosa ha perduto per ritrovarlo e quando l'abbiamo ritrovato fare come questa donna che richiama tutti i vicini le amiche e le vicine dicendo rallegratevi con me ho ritrovato la dramma che avevo perduta c'è una testimonianza una testimonianza che non è facile è una testimonianza che costa qualcosa e la deve dire l'ho ritrovata perché l'avevo perduta siamo noi disponibili a confessare quello che abbiamo perduto siamo noi disponibili a testimoniare agli altri che abbiamo dovuto spazzare il nostro cuore che abbiamo dovuto illuminare la nostra vita che abbiamo dovuto renderci conto che qualcosa mancava e avevamo perduto e dovevamo ritrovarlo ad ogni costo se ci rendiamo conto allora noi possiamo poi testimoniare e gli altri si possono rallegrare con noi altrimenti la nostra esperienza è un'esperienza che non serve è un'esperienza fittizia è inutile che questa donna andava attorno dicendo sapete mio marito quando mi ha sposato mi ha fatto un gioiello era una collana con dieci pezzi d'argento sapeste quanto era bella e adesso si ce l'ho lì da qualche parte sono troppi cristiani che avendo goduto della benedizione di Dio ed avendo ricevuto le grazie del Signore ne parlano come di qualcosa del passato che non serve più la tua e la mia esperienza cristiane non sono pezzi da museo di cui se ne deve parlare è qualcosa di cui noi dobbiamo rendercene conto giorno per giorno perché Dio non ci ha dato la sua grazia in vano quello che lui ci dà ce lo dà perché possiamo testimoniare agli altri oh Signore aiutaci stasera darci grazia che in mezzo a questo mondo caotico e in mezzo alla freddezza e all'infedeltà di tanti credenti noi possiamo essere richiamati alla ricchezza dell'eredità che Dio ci ha concesso e in fin dei venti avere nove pezzi invece di dieci chi se ne accorge e beh se tu vai da qualcuno se hai un gioiello e vai da qualcuno che se ne intende se vede che ne manca soltanto una piccolissima parte dirà questo gioiello se fosse integro avrebbe un grande valore ma poiché ne manca una parte il suo valore è nullo la tua e la mia esperienza cristiana o è globale e totale e quindi esprime la gioia di Dio l'allegrezza di Dio la salvezza di Dio in una forma evidente o altrimenti non avrà nessun potere sugli altri questa donna dovrà poi quando l'ha ritrovata chiamare le sue amiche le sue vicine per dire sapete avevo parlato di quel gioiello sono andato a vederlo e ho trovato che mancava un pezzo oh ma non mi sono data per vinta ho acceso il lume ho spazzato la casa e lì in un angolino nascosto sotto la polvere l'ho ritrovato ora però questo gioiello è integro rallegratevi con me ora ne faccio festa perché non soltanto dico di averlo ricevuto una volta ma ora posso goderne ora signore aiutaci oh che la nostra vita possa essere una vita veramente ricca una vita esuberante una vita abbellita dalla ricchezza di Dio e dai suoi doni o noi come pentecostali parliamo tanto dei doni parliamo così tanto dei doni che dimentichiamo il frutto senza sapere che il primo dono che Dio fa ai suoi credenti ai suoi seguaci è di farci simili a Gesù di avere la natura divina di essere simili a Gesù signore aiutaci aiutaci perché la nostra vita sia veramente ricca non di una ricchezza fittizia credo di aver raccontato già un'altra volta un certo giorno siamo in una in un vecchissimo palazzo di Napoli tutto rotto le scale tutte mangiate consumate dal tempo scalini spezzati muri che cadevano a pezzi e camminando camminando salimmo credo fino al terzo piano e lì inaspettatamente in mezzo a quello squallore a quella povertà e a quei ruderi sulla porta una targa lucidissima con sopra una corona credo che fosse un marchese o qualcosa di là non me ne intendo molto di nobiltà con sopra sottoscritto il nome e cognome di questo uomo che differenza fra l'ambiente in cui lui si trovava gli era rimasta solo la targa a troppi cristiani rimane solo la targa la ricchezza è un'altra esperienza voglio raccontarvi fino a qualche tempo fa andavo da un dentista ma all'entrata di questa di questa porta di questo portone uno è sempre preso da un tremendo odore di vino di vino non di vino di vino di alcol e naturalmente voi sapete come io sono fatto a un certo punto sono andato dal portiere e ho sentito un po' mi dica una cosa ma come mai che lì entrando nell'androne del portone si sente sempre estate in vero se ci andate anche adesso un forte odore di vino e mi disse sa signore molti anni fa lì c'era una cantina dove tenevano il vino ormai è chiusa da tempo però l'odore del vino ha impregnato tanto gli muri che è rimasto e purtroppo tutti si lamentano ma non c'è nulla da fare troppi cristiani sono come quella cantina c'hanno l'odore del battesimo dello spirito santo e della presenza di Dio il ricordo di qualcosa ma in realtà c'è una povertà spaventosa non perché hanno perduto tutto ma perché hanno perduto una parte di quel gioiello che è la grazia di Dio in Cristo Gesù che sono i doni del suo spirito che è la presenza del Signore nella nostra vita oh possiamo continuare a parlarne ma è inutile occorre che tutti noi scopriamo la perdita scopriamo il disordine scopriamo la negligenza scopriamo che ci manca qualcosa e accendiamo il lume e alla luce di questa preziosa parola scopriamo esattamente che dobbiamo spazzare il nostro cuore e chiedere allo spirito di Dio di aiutarci a farlo per ricercare quello che abbiamo perduto dopo di che quando l'avremo trovato potremmo testimoniare a tutti con gioia di essere veramente ricchi ricchi di chi ricchi di Dio della sua presenza e della sua grazia al Signore sia la lode da loro in eterno e della sua grazia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.